E' stato inaugurato lunedì il refettorio della scuola Dominani, la scuola che ospita i bambini residenti nel centro antico. L'inaugurazione va a completare il recupero dell'edificio storico. Beh sì, in effetti è dal 2016 che noi attendiamo questo completamento. Chiaramente non è stato facile, visto la struttura antica, le difficoltà anche che in itinere si sono presentate. Però adesso il risultato è ottimale. Come dirigente scolastica di questa scuola sono molto contenta, molto fiera di questo risultato. Spero che i bambini possano vivere ancora più serenamente di nuovo la mensa, che comunque hanno vissuto, malgrado le difficoltà strutturali, la messa non è stata mai eliminata. Il recupero è stato reso possibile grazie a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari e all'azione di diverse amministrazioni, a partire da quella di Nicola Pice. Vedere tanti bambini che vengono anche da tante religioni, da tanti percorsi anche etici diversi, e vederli qui esplodere in gioia, che è una gioia di stare insieme, restituisce anche il senso della scuola, il senso di un'agenzia di educazione, che è il principale fautore della legalità, anzi della prevenzione in materia di legalità sui territori. Avere qui la Domilani significa avere la garanzia ancora di lottare, nel centro antico è un centro antico sempre più vivibile, sempre più a misura di bambino. Per recuperare tutta questa struttura sono accorsi svariati milioni di euro, mi è fatto piacere aver partecipato all'ottenimento di altri finanziamenti, quindi di aver completato l'opera di Nicola e di aver valorizzato l'idea di Marco Vacca, che oggi mi ha fatto particolarmente piacere avere qui con noi. All'inaugurazione ha partecipato anche Marco Vacca, anima storica e fautore del recupero della scuola. Innanzitutto sono stato alunno in questa scuola, 75 anni fa, sono stato festeggiato per la fine della mia carriera di insegnante, proprio in questo cortile. Sono stato in consiglio comunale a dare la spinta perché questa scuola si chiamasse, innanzitutto funzionasse. e che poi si chiamasse Don Lorenzo Milani.